Rosalba, ti voglio presentare un vecchio amico di famiglia che non conosci. Si chiama Geremia. I miei più sinceri rallegramenti. Piacere. Rosalba ha appena partecipato a Miss Agro Pontino. Papà. Perché non me l'avevi già detto prima, fratello caro? Fino a Calabrese, la bottegai che sta in giuria, una mia vecchia amica, vi potevo raccomandare la ragazza. Non ce n'è stato bisogno, grazie. Ho vinto lo stesso. Ah, rallegramenti. Lì la concorrenza è selvaggio. E avete già incassato i 500 di premio? Eh, Rosalba, vuole tornare in beneficenza. A Emergency. Eh, ma l'emergenza è qua, sorella Cal. La beneficenza ce la dobbiamo fare tra di noi. Sei d'accordo? No. Ah. Allora, Rosalba, sei contenta che ti sistemi? Molto. E dimmi, dimmi, in questi bei momenti uno che è stato d'animo ha? Sinceramente non do molta importanza ai miei stati d'animo. Fermi tutti. Questa è una risposta piuttosto interessante. Sarei che tua figlia è molto intelligente. L'ho credo bene. E dimmi, hai preso in considerazione l'ipotesi che lui sull'altare ti dica no? Francamente mi sembra impossibile. Non confondere mai l'insolito con l'impossibile. Vabbè, io devo andare, eh. Arrivederci, è stato un piacere. Ciao, Rosalba. Ci vediamo presto.